Siamo con il mister Di Giulio del Tossicia nel post partita della Caragono Sportland. Allora mister, è arrivato il secondo punto stagionale e la vittoria tarda ancora ad arrivare. Sì, diciamo di sì. Alla fine oggi è stato meglio il primo tempo. Noi purtroppo in settimana, l'America scorsa, abbiamo avuto il grave infortunio anche di Pierleoni che tra l'altro ieri abbiamo saputo che è la ruptura del crociato. Adesso è un periodo in cui stiamo facendo difficoltà a fare golle, però oggi qui è un punto che ci può stare perché comunque è una squadra ben attrezzata, di categoria, con giocatori vai, con un bravo allenatore, quindi è un punto per noi guadagnato. Ecco, siete stati fermati in un paio di circostanze dalle prudezze del portiere locale che si è frapposto bene ai tiri dei suoi attaccanti. Sì, certo, nonostante un ragazzo, l'avevo già visto l'anno scorso, comunque ha delle ottime qualità e con noi l'ha dimostrata. Vabbè, questo è così.